Su proposta dell'assessore Mario Manganiello abbiamo conferito la cittadinanza onoraria a Tommaso Paradiso, musicista. Cittadinanza onoraria ai chiavi del paese a Tommaso Paradiso, il cantatore romano originarianese in testa alle classifiche con la sua famosissima band dei giornalisti, attuale gruppo di punta della scena pop italiana, ad omaggiarlo del prestigioso incommio il sindaco Domenico Gambacorta in una villa comunale affollatissima di fan. Come direbbe mia nonna, tanto onore non posso ricevere. E chiudendo gli occhi immagino, immagino fino a vicino Tu che porti per un viaggio e io che non fiole piante aspettando il tuo ritorno Con lo sguardo perso tra le nuvole di telefono che suona Da quando mi sono preso le prime cotte per l'uscioralla, per venditti, per vasco rossi, ho detto questo è più quello che posso fare e che riesco a fare e poi quindi è andata così. Mescola il nuovo e il vecchio, la vecchia musicalità degli anni Ottanta con il nuovo linguaggio, quindi questo è molto particolare, molto speciale. Tutti gli anni vengo ad Ariano, poi noi abbiamo fatto sta cosa. Voi ve ne siete accorti adesso maledetti?